Mario che c'è? Sono un po' stanco, ho un cerchio alla testa Magino, torrimi una curiosità, hai mai pensato a dimagrire? Sì, e a pensiero mi è venuta già fame Sono fatto così, mangio quello che mi va Ma hai perso un chilo, li ho sempre trovati Eppure pensa, c'è un mio amico che si è liberato di 50 kg superflui tutto in una botta Adesso è riconoscibile, un'altra persona sta benissimo Izzi, che come ha fatto? Ha lasciato la moglie Guarda un po' quelle due là Ma perché una è tua moglie? No, ma potrebbe diventarlo Signore belle, maniuccio ai vostri ordini Ogni vostro desiderio è un ordine Abbiamo una gran fame Benissimo, oggi c'è la nostra grande novità, il menù animato Ma da quando? Da adesso, vai Gino, mostra le carni alle signore Le carni, no, le carni, i nostri burger, special burger Più burger, più special, più special Che bravo, non fare quei gesti Ma abbiamo anche il western smash Fa vedere il western smash No, doppio burger, peccato Perché fa il fanatico Perché poi quando fa così Finisce gordinano il chicken burger Chicken, fai il chicken Lascia la signora, lascia la signora Vieni qua, vieni qua, lascia la signora I know my chicken Tutti i miei polli Vuoi vedere un pollo? Prego Sì, il pollo McCartney Pollo McCartney She loves you, Coco She loves you, Coco Polo Newman Aia, aia Polo Newman? No, non gli viene, non gli viene Non gli viene Polo Newman Bene, piaciuto? Sì, grazie, grazie infinito Volete vedere i dolci? Dolci? No, peccato perché ha dei piedi dolci fantastici Ma è martedì Esatto, il martedì oggi è giorno Giappa Ah, è giorno Giappa Che vuol dire il giorno Giappa? Solo sushi Ah, solo sushi Solo sushi Solo sushi Solo sushi Quindi, che prendiamo? Un taxi E allora ci diamo l'alcol? Visto che siamo persone di spirito